WPT dei tre con Giacomo Fondorò purtroppo non è andato benissimo questa giornata ma un'altra bandierina anche se tu immagino ambivia ben altre posizioni, come è andato oggi? Oggi non è andata benissimo perché partendo da short stack giustamente mi sono ritrovato a dover mettere tutto con K8 di pick mi ha chiamato Bernardo da Big Blind con SOK giustamente e quindi esco così, quindi non c'è altra azione possibile da questo punto di vista mi è piaciuto molto questo evento dal punto di vista organizzativo anche perché per me è importante sempre ogni tanto essere presente in Italia anche io preferisco giocare all'estero ma mi piace essere presente in Italia in questi eventi quindi la Tilt Events appunto è il circuito WPT è proprio il circuito che mi piace di più quindi sono nel mio contesto, sono nel mio habitat diciamola così Mi piace di più che infatti proprio qua hai tenuto i risultati eccezionali anche in giro per il mondo dopo tutti questi risultati Teo, cosa ti aspetti? Qual è il tuo prossimo obiettivo caro Giacomo? L'obiettivo è sempre quello, quello che ho già sferato nello scorso aprile a Sanremo cioè la vittoria dell'EPT addirittura la considero un obiettivo superiore alle World Series per me l'EPT è il massimo quindi Praga sarà sicuramente uno dei miei prossimi eventi che sicuramente non mi farò mancare